oooo aiuuuusto si caprezzano sul collo e cosi lo stringono ahjiii ehi charlie fai il polvo adesso ma attaccali dentro al camper che lo tiriamo si sta davanti al cofano? sto gioco come cinghane mi state facendo battere la madonna cinghane di gigante sto gioco alzio che gigante grande grande aiuto alzio 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 è un uomo donna 100 kg di magra guardi sei un invertebrato di merda ma tu e i genitori neanche dei figli normali alzio parla di lardo alzio 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 aiutati aiutati se fermo e io sono fermo se fermo